Buonasera, signor Giacchia. Signora Stenberg. Sì, ha scritto a mio reddito di donare di dietro della confezza. Sì, ha scritto a mio reddito di donare di dietro della confezza. Sì, ho detto che si tratta di certi d'opensi afferenti all'arrivo della confezza. Dimostrerebbero che gli da reti hanno colpito il diritto. Io guardo quelli conti, mi dico sempre. Non lei posso parlare, non io. Davide, è la risposta che mi ha detto. Era una bugia, perché deciderebbe pesca. Capisco, è lei la loro grande ha presi, dopo averte ucciso. Certo, non potevo fare altro. Era una storca salisuda. Del resto, non viene i soldi che Kelly abbia pagato da questi ultimi due anni. Era una vita la finita. Purtroppo, ho creduto che Martin non risiede con la verità. Che ne esistisse soltanto in una coppia. Di quelle quali, me li dirà. Sono in un posto sicuro. Nessuno potrò prendere. A parte di chi è ora? Nessuno, da due anni. Interessante. Non so, va bene, mi stai via. Non so, va bene. A parte di chi è orare. No, no, no. No. No, 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 no no.